Gravissimo un 32enne che nel pomeriggio percorrendo via Bertorelle a Rosari, incasando sul suo monopattino dopo il turno di lavoro assieme a un collega, per cause ancora in corso da parte della polizia locale, è caduto e ha sbattuto violentemente il capo a terra. Un trauma cranico che ha portato i sanitari del suo M118, intervenuti sul posto, allertati da alcuni passanti, a far intervenire l'ellisoccorso da Padova. L'uomo è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.